Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come avrete letto dal titolo, quest'oggi dato che sta arrivando il freddo si ritorna ovviamente a fronte aria con le rivi di primi freddi è una tecnica che risulta molto divertente dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dunque direi di superare i 90 like per questo video e mi raccomando non perdetevi il video di venerdì che sarà super interessante dunque direi di non perdere altro tempo e via con il video oh, ho sentito qualcosa nooo eccola la, oh un'altra sentite qua nooo ok devo riprendere un attimo la mano mamma mia che pacca mamma mia eccola presa orco un baby bus dai, 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 dai dai inca pieno 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 è bravo dai, 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 dai vediamo un po' con questa non hyper presa in caduta non so mi ho dato quelle così piccole ecco qua in caduta riproviamo vediamo se funziona no è sempre in caduta allora bisogna andare ad otto messa ok presa get back ok e dove Vieni 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 va bene adesso ci siamo vai veloce che sull'entro non mi mangiavano qui sta arca troia qui sull'entro qui sull'entro qui sull'entro qui sull'entro no no c'è un 12 la puoi tirare su anche al volo ah no questa era un pochino più grande non dovevo slamarla voglio farmi fare il reaser anzi me lo farò da solo come voglio io un metro e mezzo di bastone un pochino no me lo faccio hai fatto il bike runner sì non ho fatto nuovo tra l'altro vero vero non è male rispetto alle altre ho constatato che è quella che si dilatta di meno guarda questa è usurata praticamente e rimane sempre fine invece tipo spidewire power pro si allargano tantissimo e uno 08 ti diventa un 14 ui oh 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 opla eccola qua un abbellino adesso metto una fungia mmm non non c'è fuori lancia anche di là la trota dai maledetta l'alba 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 Sì Occhi Grazie per la visione!